con voi, perché con il diretto interessato l'ho fatta, abbiamo parlato, ci siamo detto quello che ci dovevamo dire, non c'è nessun problema, ho soltanto risposto a una domanda che mi è stata fatta, ho dato la mia motivazione, anzi tre motivazioni, e niente, non so se ho offeso a qualcuno chiedo scusa, a profitto della situazione, ma non penso di aver detto cosa errate, ho detto quello che veramente era successo in quel momento, e niente, quindi ho chiarito, quindi state tranquilli, e che altro, e niente, per qualsiasi dubbio fate su iPad che c'è il video. Fariba, ma è vero che aveva avuto un inizio di relazione anche con Andrea Iannone? In persiano però, è più chiaro, no ma è vero, aspettate, aspettate, allora, Iannone le ha fatto s*****o come altre persone, solo che lei, essendo persiana, non la dà via subito, per quello... Non ho mai detto che Iannone ci ha provato con me, anzi, quella notizia che era uscita risale a quattro anni fa, una serata, passata in gruppo, tutti insieme, dove siamo andati a un evento, b*****o, non è mai successo niente, mai detto che ci ha provato con me. Ha detto Giulia, tua mamma, a mattino 5, dalla Federica Panicucci, ha detto che tu e Iannone in effetti vi siete frequentati, ma prima che lui stesse con Belen, questo l'ha detto tua mamma, non è bene informata. Ogni tanto la mamma si perde qualche passaggio, no, 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 è una cosa di quattro anni fa veramente assurda.